Wow, questo è il nostro primo vero soundcheck. È una cosa stupenda. Ma mai quanto lo sarà suonare domani a Battle of the Band? Sì, sì, sì. Anche quello non è male, ma io preferisco il soundcheck. Secondo voi vinciamo. Dopo aver spaccato le audizioni, ci siamo conquistati il titolo di band da buzzer. Sì, sì. Bene, bene, bene. Ecco qui gli scularetti ob-rock. Ciao, Justin. E i Night Lisa? O dovremmo dire i Night... strizzano. Hai mai avuto veramente paura? No. Tu? Te l'ho chiesto prima io, ho vinto. Proprio come vinceremo anche la Battle of the Band, perché noi siamo un gruppo vero, mentre voi siete un mucchio di bambocci. Bambocci? Vuoi conoscere Gugu e Gaga? Calmina, le mie caccole sono più grandi di te. Sentite, quei tizi sono i peggiori, ma tutti gli altri partecipanti ci porteranno il rispetto che ci meritiamo. Sì. Ehi, Dewey. I tuoi marmocchi vogliono giocare con le mie chiavi. A questo bambolotto ne piacciono le mie chiavi. E a chi importa delle tue chiavi? Ricordati della nostra scommessa. E come potrei dimenticarmene? Che cosa ho scommesso? Lei ha scommesso il suo furgone, professore. Ah, meno male. Tanto sono un rocker. La sola cosa importante nella vita è la mia chitarra. Ho scommesso pure quella. Ma quanto sono stupido. Scusate, non è quasi ora della nanna? Volete una favola della buonanotte? Voi perdete. Fine della storia. Siete voi che perderete, perché noi suoneremo una canzone da paura. E la suoniamo alla grande, perché noi proviamo come una grande band. Tutti i giorni, bello. Nell'aula 21A, scuola media William B. Travis. Sarebbe la nostra classe, ma l'abbiamo trasformata in una sala prove con un elaborato sistema per nascondere gli strumenti. Boom! Adesso facciamo il sound check. Sì. Poi ci direi chi sono i bambocci. Qualcuno mi dà una spinta? Ci penso io. Aspetta! Forza, dai! Qualcuno chiami il mio pediatra, per favore. Voglio dire... l'adultologo.